ciao a tutti e benvenuti sul mio canale io sono Susy Stagliano e sono una ballerina nonché un insegnante di ball dance adesso oggi faremo un tutorial che mi è stato chiesto quindi a gentile richiesta ecco a voi oggi faremo l'arabesque allora l'arabesque è questo movimento che i ballerini di danza classica e professionisti ci mettono anni e anni per riuscire a raggiungerlo io ho riassunto in questo tutorial proprio i tre esercizi principali che ti aiuteranno ad avere un arabesque decente per poi riproporlo al palo quindi andremo saliremo sul palo e proprio proveremo a fare l'arabesque aereo diciamo così quello che indosso è stato offerto sempre da patrizio glam con la sua collezione people che è una collezione che è anche in un'anteprima quindi ancora deve uscire e ve lo voglio far vedere questo è completo da da la 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 si ci divertiamo molto a fare queste cose trovi utile questo video ti invito da subito a cliccare mi piace e ad iscriverti al mio canale di youtube che appunto è Susy Stagliano pole dancer troverai questo e anche altri video proprio inerenti per chi si allena a casa da solo per la pole dance sono video efficaci e l'allenamento è sicuro quindi sono cose che puoi fare senza assistenza poi ci saranno le palestre aperte e quindi io tornerò ad insegnare in palestra felice comunque di continuare a fare tutorial come sempre fatto quindi iscriviti al mio canale e guarda tutti i video che ho postato qui se hai seguito i miei video precedenti saprai che mi piace iniziare sempre con un riscaldamento perché l'errore più comune è proprio andare al palo senza un adeguato un adeguato warm up un adeguato riscaldamento quindi è importantissimo dobbiamo rinforzare i muscoli della schiena riscaldarli bene prima riscaldarli per rinforzarli nei prossimi esercizi e poi andremo a lavorare anche le gambe perché l'arabesco parte da un batman tendu e quindi dobbiamo capire che la gamba deve andare in under ok piano piano mo ce lo costruiamo iniziamo da zero e il zero è il riscaldamento da qua partiamo e cerchiamo di fare dei bei cerchi con la testa mi raccomando vai alla velocità che più ti piace se vuoi andare lenta vai lenta se vuoi andare un po più veloce vai più veloce cerca di fare questi giri possono essere giri piccoli o giri belli ampi secondo me l'allenamento dipende da persona a persona da qui un po con le spalle cominciamo a sciogliere le spalle in con questo movimento e poi dalle spalle piano piano passiamo anche a muovere un po il busto in avanti e all'indietro in avanti e all'indietro altri 3 2 1 e poi torniamo su dall'altro lato quindi in senso anti orario prima la testa rilassa magari chiudi gli occhi poi piano piano cerca di muovere anche le spalle cerchiamo di disegnare dei cerchi con le nostre spalle dopo di che passiamo al busto quindi busto in avanti busto di lato in avanti di lato è come un ramassè che nella danza classica significa raccogliere quindi altri 3 2 1 e ci fermiamo al centro e da qua mani dietro la nuca petit cambré un arco poco 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 la schiena inspiro cadrizzo la schiena allungo scendo scendo piano come un tavolino dopodiché cercherò di andare con la testa come se volessi portare la testa giù a terra metto le mani in avanti e raggiungo quella che la posizione del triangolo tu rimani così io mi giro per farti vedere meglio e questa devono arrivare i talloni a terra e la testa deve entrare all'interno delle spalle quella che nello yoga si chiama asana del cane e resto altre 3 2 1 mano a mano con le mani cerchiamo di raggiungere i piedi e l'esercizio continua quindi srotolo e ritorno di nuovo petit cambré rilasso la schiena schiena dritta schiena dritta come un tavolino piano piano scendo dopodiché resto metto le mani un po più avanti e vado nella posizione del triangolo da qua piego le ginocchia e srotolo ok sei pronta facciamolo un po più dinamico quindi piego stendo stendo giù tavolino tavolino scendo giù mani in avanti triangolo dopodiché piego le ginocchia srotolo mani dietro la testa cambré scendo giù schiena dritta le mani a terra triangolo testa all'interno delle spalle piano piano cammino con le mani mani sopra i piedi ginocchia piegate srotolo e di nuovo l'ultima volta dai l'ultima volta facciamolo insieme scendo giù ok mani triangolo piano piano con le mani raggiungo i piedi piego le ginocchia e sgrotolo il riscaldamento prosegue con un petit panché con un panché piano piano scendiamo giù ritorniamo nella posizione del triangolo come stavamo prima e l'esercizio sarà una volta sollevo la gamba sinistra per esempio passo per triangolo e sollevo la gamba destra e così via triangolo sinistra triangolo destra e questo è il nostro esercizio sinistra triangolo triangolo destra al 3 4 continua 3 2 non mollare l'ultimo e passo per il centro di nuovo verso triangolo piego le ginocchia e vado in quella che nello yoga si chiama child pose che questa posizione qua di rilassamento mi sposto perché così puoi vedermi meglio non ho un cameraman faccio tutto da sola eccola qua questa è la child pose ok da qui ci tiriamo su e facciamo di nuovo l'esercizio di prima quindi cerchiamo di raccogliere corramo a sé questo esercizio che abbiamo fatto in piedi adesso lo facciamo con le ginocchia piegate mi raccomando se hai problemi di schiena vai più tranquilla più lenta e cambio dall'altra parte giro altri 3 2 l'ultimo ecco da qua inspiro piccolo cambraio e all'indietro in avanti scendo scendo giù e rilasso con il child pose dopodiché ritorno di nuovo schiena dritta piccolo cambraio come se mostrassi una collana schiena dritta scivolo scivolo in avanti e posizione del bambino child pose appunto e di nuovo dietro in avanti e scendo rilasso e l'ultima volta restiamo quindi da qua metto le mani dietro dove stanno i polpacci se riesco se no altrimenti resto così rimango così se sono di livello principiante se me la sento scendo giù e resto 5 4 respirate 3 2 1 schiena dritta dritta e scivolo giù questa volta questa prima parte è finita quindi ci possiamo rilassare un attimino nella child pose cercate di far arrivare i glutei vicino ai talloni che spingo così nelle mani il resto prepariamo il nostro primo esercizio quindi andiamo a pancia a terra andiamo a posarci sugli amambracci questa posizione nel nello yoga si chiama cobra ok noi dobbiamo cercare di raggiungere un cobra mi raccomando spalle basse quindi non è questo ma è questo e inizialmente piego stendo per farmi familiarizzare con la posizione piego stendo quindi è come se facessi un petit cambré gran cambré giù e su ok altre 8 7 6 mi raccomando stringi glutei 5 4 3 2 al prossimo restiamo su quindi resto su inspiro e torsione verso destra passo per il centro torsione verso sinistra un po più dinamico quindi destra sinistra cerca di girarti verso la direzione opposta come se volessi guardare qualcosa che sta dietro di te quindi altre 8 7 6 5 4 3 mancano due manca l'ultimo e rilassa tutto andiamo in child pose rilassati testa siamo pronte per il nostro secondo esercizio quindi numero 2 ritorniamo di nuovo nella stessa posizione che stavamo prima e piano piano dobbiamo cercare di se puoi extraruotare i piedi ok e piano piano la gamma deve salire in under or dobbiamo costruire un batman tandù quindi non deve salire così dritta ma leggermente girata ok cerchiamo di restare con il busto attaccato al tappetino e solo la gamba che si solleva e si gira ok quindi non è non è questo ma è questo ruotato all'infuori e iniziamo il nostro esercizio quindi 8 sempre stessa gamba 7 6 non cambiare gamba 5 4 3 2 l'ultimo e cambio gamba adesso l'altra gamba 8 7 6 5 4 3 2 l'ultimo adesso proviamo a farle alternate quindi una volta solleviamo gamba a destra una volta solleviamo gamba sinistra altre 8 7 6 5 5 4 3 2 l'ultimo e tiro sulla gamba resto 6 5 5 4 3 2 1 cambio gamba altri 6 secondi 6 5 4 3 2 1 e giù rilassiamo tutto abbiamo completato anche il secondo esercizio se l'hai fatto sei proprio brava quindi giù rilassati resta respira prima di continuare voglio mostrarti due fotografie questo il mio primo arabesque in cui ho vinto un video con Alina Quintana che è una dance coach bravissima ed era un arabesque un po' bruttino ok perché avevo partorito da poco e quindi non ero molto in forma poi mi sono allenata mi sono allenata tanto 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 fino a raggiungere un arabesque decente e non è passato molto tempo conta che il primo arabesque l'ho fatto nel novembre 2020 sì novembre 2020 e l'ultimo arabesque l'ultima foto che hai visto risale al febbraio 2021 per il nostro terzo ed ultimo esercizio abbiamo bisogno di un elastico un elastico tipo questo chiuso ok da qua ti faccio vedere come si usa prima di farti vedere io ho indossato un corsetto per avere la schiena dritta perché l'errore più comune è tentare di fare l'arabesque e piano piano che la gamba si alza vuff cado con la schiena in avanti invece no la schiena deve rimanere dritta appoggiamoci a un palo o a una parete si parte da una prima posizione di danza piano piano si costruisce un batman tendu e dal batman tendu sviluppo la gamba a 25 45 90 gradi noterai che più la gamba si alza più il busto tende a cadere e invece no deve rimanere dritto cerchiamo di stare con la schiena dritta il più possibile un'altra cosa le spalle non si devono girare mentre la schiena sale no le spalle devono rimanere comunque dritte verso un'unica direzione e la gamba che cerca di salire a spiegarlo sembra una cosa facile invece è difficilissimo bisogna fare tanta 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 pratica quindi per tirare la gamba su ci aiuterà l'elastico per tenere la schiena dritta ci aiuterà un bustino e in più ci poggiamo alla parete o a un palo ok quindi mettiamo l'elastico uno faccio un secondo giro ecco così in questa maniera piego la gamba per aiutarmi a portare l'elastico sulla spalla opposta infilo sulla spalla opposta e stendo la gamba noterai che l'elastico va dietro no lo devo portare di lato lateralmente così dobbiamo fare il nostro esercizio all'inizio l'elastico è un po' scomodo però ti ci abituerai quindi poggiati poggiati prima posizione di danza da qua batman tandù dal batman tandù piano piano cerco di alzare la gamba e uno e scendo lo dobbiamo fare otto volte lo faccio lento perché con la lentezza uno riesce a capire meglio il movimento e sono due e piano piano alzo su sono tre provalo con me dai sono quattro riprodurre fedelmente l'arabesco è un po' difficile veramente difficile per me che non sono ballerina di classico quindi l'ho dovuto studiare anch'io e sono cinque sei non fa niente se ne facciamo qualcuno in più sette ok e l'ultimo 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 otto e restiamo e proviamo il nostro equilibrio sei cinque quattro tre due uno e faccio scendere la gamba giù e proviamo tutto dall'altra parte noterai che ci sarà una parte più collaborativa dell'altra ma è giusto che sia così quindi mettiamo il piede giro preparo la gamba la piego porto l'elastico sulla spalla opposta lo metto di lato allungo la gamba raddrizzo prima posizione di danza ok ci siamo Batman Tandu dal Batman Tandu salgo su otto volte questa volta veramente otto le conto promesso che le conto sette sei cinque quattro tre due l'ultimo l'ultimo resisti l'ultimo ok equilibrio sei cinque quattro tre due uno e giù ogni qualvolta perdi l'equilibrio non ti preoccupare ti puoi appoggiare e adesso proviamo a farlo al palo vai con l'arabesco yeeeh dobbiamo sempre tenere presente quali sono i punti di contatto al palo ok in questo caso nel nostro arabesque un punto di contatto è proprio il braccio questa parte qui del braccio l'altro punto di contatto è il retro qui della gamba che noi andremo a fare questo ok ma il perno principale è proprio la pianta del piede lo vediamo nello specifico quindi il piede non deve essere assolutamente sudato per riuscire a fare questa presa acrobatica bisogna avere un'inversione quindi io lo definisco una presa acrobatica di livello almeno intermedio perché dopo l'inversione si passa per un outside un gemini e poi si arriva in princess e cupid detto anche cupid e da la parte l'arabesco inversione 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 princess posiziono bene il braccio e apro vi chiudo rimetto tutto al palo attaccato riagganciamoci bene e piano piano scivolo giù per oggi è davvero tutto spero che ti sei divertita insieme a me in questo tutorial se hai domande scrivimi pure mi puoi trovare su facebook, su instagram io sono sempre Susy Stajanopoldancer puoi lasciare un commento anche qui sotto il video le palestre presto apriranno e quindi ci vedremo dal vivo e dal vivo vi posso garantire che sono molto molto meglio sono molto più simpatica un bacione a tutti ciao da Susy Stajanopoldancer ciao da Susy Stajanopold jerk insieme dimostra i stajanopold